Ciao a tutti ragazzi per ritornare in un nuovo video Oggi vi voglio far vedere lo shop di oggi Vediamo, io non l'ho ancora visto Sto appena entrando Allora Entriamo, 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 entriamo Lo scusate se parlo piano, adesso mi avvicino un po' più al microfono Così ragazzi, almeno mi sentite meglio Vediamo Che cos'è sta roba? Allora Ragazzi, ragazzi Cos'è sta roba? Ma che merda è? Ragazzi mi rispetto a voi Non è tutto Allora 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 questo non è nuovo per me dovrebbe essere uno stile tavola lucente credo che rimangono fino a domani ragazzi mettete il codice 4 recap è facile e gratuito io lo supporto cap e comprate qualcosa tipo ora anzi no lo compro finiamo questo video con una bella partita poi ragazzi la skin era già stata spoilerata allora non voglio gridarvi nelle orecchie che ho parlato veramente piano ragazzi inviatemi le richieste però i nomi italiani per favore italiani nomi perchè se no ragazzi io cambierò un nome dopo domani lunedì cambierò un nome ve lo direte voi quale metterlo ragazzi ovviamente forse metterò uno che mi viene in mente ragazzi forse però non so se avrò la ricarica da 10 o da 5 ma ragazzi la ricarica la faremo quindi giusto facendo ragazzi voi mi arriva la nuova televisione quindi da 43 pollici quindi ragazzi aspettatevi un nuovo momento è bella ok facciamo la partita ragazzi non so se non vedete che giocatore ci sono due ma che c***o allora ragazzi io volevo dire una cosa insomma arriviamo subito e rifacciamo un'altra e io come vi ho detto farò un contest ma il contest lo farò il mese prossimo quindi non praticamente è un botto di tempo ci vuole il contest lo farò il mese prossimo si lo so è una roba tipo ma che c***o si lo farò il mese prossimo ragazzi ovviamente iscrivetevi al canale di matti di matt matt 23 17 venuto attaccato un po' di video su Fortnite ha fatto i video anche con me condividete i miei video e basta comunque ragazzi oggi ho voluto questo video tardi non so perché mi è venuta l'idea ma a me non me ne frega io prendo la R grazie ho sentito qualcuno l'ama no non vedo il l'ama ucciso aveva un cavaliere quindi era da su però almeno copichi fra cioè non ti posso far nulla se non ti copri questo non si copri allora una kill mi sono fatto lo scilino prima che avevo volevo ammazzare lui ragazzi mi sa che non è venuto nessuno affalmito no c'è gente ucciso raga pompa del nonno anzi no raga io mi prendo questo perché pompa del nonno è bianco rotilla bella e facile allora schiacciato un bottone Allora C'è stata gente al 100% C'è gente Ma donna Già il bombarolo? Qualcuno che scioppa Ed è anche forte Vabbè difendo Ma almeno io non sono scioppa Morto Vero ragazzi che è anche uno scioppone Ragazzi mi sa che faccio anche due parti Aspettate raga Raga sentite che faccio Mi chiudo Ci vediamo in un nuovo video bella